Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che scorre regolare su tutta la rete autostradale in Fipilì. Si ricorda che proprio in Fipilì a causa di lavori rimarrà chiusa la carreggiata tra Ginestra, Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze dalle 22 del 16 novembre alle 6 del 18 novembre, mentre nella notte del 18 novembre in orario 22.6 rimarrà chiusa la carreggiata in direzione Mare. Sul raccordo Bettolle-Perugia ha chiuso lo svincolo di Cortona in entrata e in uscita in direzione Perugia. Vediamo con i cantieri della città di Firenze, dal domani 16 novembre al 16 dicembre per ripristino di marciapiedi e carreggiata saranno in vigore i dirieti di sosta e transito e sensi unici in via Reginaldo Giuliani, in via del Sodo, via Braccini e via Baroni. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!